mi ha aiutato e ci ha aiutato enormemente nel dare questo tipo di interpretazione e allora abbiamo dovuto fare una ricerca, una ricerca che ci desse però dei dati concreti perché un conto è venire a raccontare delle impressioni, tutti noi abbiamo delle impressioni ci sembra che i nostri ragazzi si seguono o non ci seguono ma quando io faccio un'attività sono contenti, quando non faccio un'attività non sono contenti se usano il digitale sono strafelici, se non lo usano però ce l'hanno nella borsa tutto ci sembra, allora abbiamo detto no, ci sembra, non va bene ci sono due università, l'università di Padova, l'università Bocconi e io prima di cominciare vorrei veramente ringraziare il team della professoressa Lucangeli Laura, Anna Maria, dove è Tommaso della Bocconi, Tommaso Penati che ha elaborato tutti i dati il gruppo di ricerca di ImparaDigitale che ha lavorato, quindi potete anche alzarvi Nadia Mainetti, Lucia Russo, Giancarlo Scorio, Marcello Marini, Beatrice Baldo, Marina Lodigiani allora tutti noi, tutti noi abbiamo davvero, poi sono giovani questi ragazzi qui sono molto giovani povero Tommaso si è trovato una mole di dati enormi da dover, su cui dover lavorare allora per noi era fondamentale avere dei dati scientifici, veri, incontroversibili e su quelli noi andiamo e andremo a riflettere non è che diamo delle soluzioni, ognuno le può interpretare incominciamo a interpretarli abbiamo trovato le soluzioni ultime? no, perché stiamo elaborandoli adesso adesso io avevo l'intenzione, vi dirò la verità, di prendere le 500 slide ogni slide ha due grafici di sintesi e farvele vedere una per una così fino a domani potevamo stare qui tutti quanti insieme appassionatamente poi abbiamo deciso che forse non era il caso e di fare una sintesi della sintesi della sintesi della sintesi è chiaro che noi oggi gli daremo degli spunti di riflessione poi oggi pomeriggio c'è il dibattito, se ne potrà ancora discutere li pubblicheremo, li commenteremo, guarderemo insieme da tanti punti di vista listiamo, la professoressa Lucangeli vi farà vedere come ha fatto le inferenze tra i vari dati per giungere a delle conclusioni, conclusioni che uno può dire ma non è così no, allora dai nostri dati 619.000 dati 619.000 risposte i docenti e qui anche io vorrei ringraziare che sono venuti dalla Sicilia, dalla Puglia dove sono i docenti che hanno fatto la ricerca? vi potete alzare? bravi io sono eroici, eroici perché sono una piccola parte, sono 130 docenti, 80 consigli di classe in tutta Italia 1499 studenti, 850 genitori ai genitori abbiamo posto 160 domande abbiamo dato i codici ai bambini, ai codici ai genitori e siamo riusciti ad incrociare i dati e ci accorgiamo che sono su due pianeti completamente diversi quello che dice uno, l'altro proprio non c'è ma questo ve lo farà vedere il professor Sacco allora cosa abbiamo fatto per capirci? noi abbiamo esaminato soprattutto i risultati del post test cioè noi abbiamo lavorato insieme dopo ve lo spiegherò per un anno abbiamo chiesto a consigli di classe è possibile vedere una slide? dove sono le slide? dove sono? mi fate vedere dove sono le slide? ok questa è l'informatica che ok si ribella vai allora vai avanti vai avanti ecco no ti ormai indietro allora questo è il gruppo come abbiamo organizzato i gruppi di lavoro perché c'erano dei gruppi di controllo dei docenti che volevano continuare a fare la lezione frontale c'erano dei gruppi invece che hanno portato avanti una ricerca noi non abbiamo insistito sulle metodologie didattiche che dovevano usare per fare un digital storytelling parliamo di metodologie didattiche il digital storytelling l'abbiamo portato avanti per un anno quindi i gruppi di classe i consigli di classe potevano svolgere questa attività utilizzando metodologie strumenti cioè tutto ciò che a loro sembrava più opportuno per giungere ad un prodotto finito che ci dovevano consegnare e abbiamo posto e li abbiamo monitorati per un anno intero allora io vi faccio vedere solo il risultato del post test del pre test studenti e docenti perché questo partiamo dal fondo perché questo è quello che ci ha affermato ci ha preoccupato all'inizio ci ha fatto riflettere perché tutti noi che cosa ci dovevamo aspettare? ah questi ragazzi useranno le nuove metodologie usano le tecnologie usano materiali innovativi fanno un prodotto nuovo con i docenti in pieno entusiasmo sicuramente tutti saranno felici ora vi faccio vedere i risultati di questo pre test e post test dopodiché ci siamo fermati abbiamo detto aspetta un attimo come mai questo risultato? allora il risultato è questo e queste sono le domande che abbiamo posto agli studenti, ai genitori, ai docenti notate bene che anche durante il lavoro i docenti hanno dovuto fare un diario di bordo composto da 60 domande ad ogni step di lavoro loro ci dovevano dire con che strumento lavoravano quale metodologia mettevano in atto il lavoro dei ragazzi come era fatto se i software e le app che usavano erano date da loro piuttosto che dai ragazzi 60 domande a cui hanno dovuto rispondere in modo tale che noi siamo riusciti ad ognuno di questi docenti andare a vedere passo per passo monitorati che cosa hanno fatto come l'hanno fatto per capire per capire che cosa per capire questo allora quello che vedete in rosso vuol dire un valore negativo quello in blu valore positivo quello in giallo è un valore stabile allora il valore negativo delle classi sperimentali nelle primarie sui docenti sui docenti che hanno fatto anche i docenti pre e post test non soltanto gli studenti anche i docenti per vedere come erano motivati per vedere come lavoravano per vedere quanto potevano essere entusiasti per vedere come questo tipo di lavoro li ha migliorati se alla fine del loro lavoro erano soddisfatti o non erano soddisfatti e qui i risultati della classe primaria dove vedete il valore negativo nell'emozione il valore positivo nella prassi nell'auto efficacia emozione positiva nel ruolo soddisfazione lavorativa quindi i docenti erano abbastanza soddisfatti del lavoro che avevano svolto le classi di controllo che facevano invece la lezione tradizionale tradizionale però erano liberi di usare anche delle tecnologie se lo reputavano necessario e alcuni di loro si sono anche messi in gioco noi abbiamo letto non li abbiamo condizionati in alcun modo abbiamo letto che loro hanno incominciato ad entusiasmarsi a questo tipo di lavoro nonostante facessero una lezione di tipo frontale perché poi ad ogni step abbiamo anche chiesto il setting d'aula come mettevano i banchi che tipo proprio di se usavano una lim se usavano i tablet cioè ad ogni passo abbiamo chiesto tutto il loro modo di lavorare e come vedete le classi di controllo i docenti l'emozione positiva è andata calando è andata calando l'emozione positiva nell'insegnamento e la prassi ma le altre voci e i dati sono positivi gli studenti come rispondono? guardate gli studenti delle classi sperimentali delle primarie guardate il rosso allora aumenta l'ansia aumenta il carico cognitivo scende la motivazione scende la capacità di organizzazione scende l'atteggiamento verso la scuola allora qui ci siamo fermati come? cosa sta succedendo? stiamo facendo un'attività nuova stiamo facendo usando tecnologie nuove stiamo usando delle metodologie ma anche strumenti perché i ragazzi reagiscono così e quella è la classe di controllo come vedete anche per i ragazzi l'organizzazione atteggiamento e concentrazione scendono invece sale la motivazione però sale anche l'ansia questa è la secondaria di primo grado guardate le classi di controllo guardate questi sono i docenti guardate i docenti delle scuole secondarie di primo grado e guardate poi i docenti delle classi sperimentali a come risponde a cosa gli studenti cosa ci dicono per gli studenti i valori sono tutti positivi per i docenti sono tutti negativi quindi i docenti l'hanno vissuta male gli studenti erano tutti contenti perché hanno visto qualcosa di nuovo finalmente nelle classi sperimentali come vedete scende la motivazione l'organizzazione il clima scolastico però aumenta l'atteggiamento verso la scuola diminuisce ma con valore positivo l'ansia e il carico cognitivo ora ve li faccio vedere così perché naturalmente tutto questo la secondaria di secondo grado guardate i valori negativi queste sono delle videate che io vi lascio e vi lascerò ma su cui non si può non riflettere perché questi risultati non ce li aspettavamo non ce li aspettavamo guardate gli studenti guardate gli studenti delle classi di secondo grado sono praticamente la motivazione concentrazione organizzazione clima scolastico atteggiamento verso la scuola sono tutti negativi allora siamo partiti dal fondo perché a questo punto ci siamo fermati abbiamo detto alto là cosa sta succedendo perché non ce li aspettavamo e allora abbiamo detto esaminiamo prima di tutto il contesto le abitudini la famiglia chi sono questi ragazzi che non non trovano nessun valore o trovano pochi valori positivi nel lavorare con gli strumenti digitali o facendo metodologie didattiche differenti dal solito e quindi abbiamo esaminato ma chi sono questi ragazzi quali sono le loro abitudini che uso hanno della tecnologia e abbiamo incominciato a leggere tutti i diari di bordo vi assicuro che è un lavoro infinito adesso il professor Sacco infatti volevo proprio dire questo tu parlavi delle abitudini non solo dei ragazzi ma delle famiglie uno dei dati che a me è venuto all'occhio quando abbiamo parlato per la prima volta di questa ricerca è proprio l'incredibile differenza fra le risposte dei ragazzi e quelle dei genitori i genitori non sono spesso consapevoli di ciò che avviene nelle loro case sono convinti che i figli abbiano un certo uso del cellulare ne facciano un certo uso in determinati orari e invece non è così non sono consapevoli neanche del tipo di controllo che esercitano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti